Ciao, oggi parliamo di France Ass, un'azienda altotesina della provincia di Bolzano che si sviluppa su 55 ettari. E' un'azienda arrivata alla settima generazione, iniziando nel 1880, che ha la particolarità che il capostipide da sette generazioni si chiama appunto sempre France. Parleremo oggi del Manna, il loro vino bianco più importante. E' un vino che ha una storia particolare, perché nasce in seguito a una cena a uno stellato tra Franza e sua moglie Maria Luisa, a cui poi dedicherà appunto il vino, in un ristorante stellato. Durante questa cena gli vengono proposti sette vini diversi, da lì l'idea di cercare di creare un vino che sia molto versatile e che abbia appunto la capacità di abbinarsi a pietanze diverse e anche le berrate e pregiate. Per fare questo, France fa una cuvée, infatti il Manna è costituito da 5 vitigni diversi, è costituito dal 40% di Riesling, che è dalla struttura per reggere nel tempo, un 20% di Chardonnay, un 10% di Sauvignon e un 15% di Gerustra Miner e dal 2013 un 15% di Kerner, inserito appunto cambiando le percentuali degli altri vigneti. Visto i periodi di immaturazione diverse, i vini vengono vinificati separatamente, lo Chardonnay e il Sauvignon vengono vinificati in barrique, mentre gli altri tre tutti quanti in acciaio. Terminata la vinigazione, i vini vengono assemblati insieme, dove riposano sulle fecce fine per 10 mesi. Segue qualche mese di riposo in cantina una volta imbottigliato il vino. Oggi assaggeremo appunto il 2018. Allora nel calice vediamo già un bel giallo pagliarino carico, tendente all'oro, un naso molto intenso, complesso. Abbiamo dei richiami che partono dalla frutta, dalla mela molto matura, anche dalla pesca, accenni anche di frutta esotica. Poi dei richiami floreali, al sambuco e al petali di rosa e poi anche delle note di frutta secca. Al momento in evidenza il pistacchio. In bocca è un vino ampio, è un vino complesso, stratificato, che ha anche una bella mineralità. È un vino che riempie la bocca, morbido ma anche sorretto, ha una bella freschezza. E' un vino che si può abbinare a diverse pietanze, come appunto l'ha inteso Franz. Potremmo sicuramente abbinarlo, ottimo abbinamento con il sushi e il sashimi, a patto di non esagerare con la salsa di soia, con dei pesci, con dei crostaci, lo vedo bene anche con dei crudi, non meno con delle carni bianche e poi un altro abbinamento che abbiamo fatto noi in questi giorni, con dei formaggi freschi. In questo caso l'abbiamo provato con del pecorino di farindola. Quindi è un vino che ha anche una grande capacità evolutiva, che può durare nel tempo e vi sorprenderà sempre, perché ha questa capacità anche di cambiare nel suo bouquet e darvi sensazioni diverse. Bene, per oggi questo è tutto, vi invito a iscrivermi al mio canale YouTube, Cosa Beviamo Oggi, clicca like e condividi e come sempre, alla salute!